I circoli blade di Lega Ambiente intervengono ancora una volta sul problema dell'erosione costiera a Marina Marza, in particolare nei pressi del Viale Kennedy, dove la situazione si sarebbe aggravata, compromettendo un apparato d'una all'antichissimo. La circostanza che tale fenomeno si sia intensificata in misura esponenziale proprio nei mesi successivi alla realizzazione dei primi pennelli frangiflutti, e proprio a ridosso di essi, sostengono gli ambientalisti, spinge a domandarsi con sempre maggiore preoccupazione se non sussiste una precisa relazione causale. A ciò si aggiunge il timore che quando si passerà alla seconda fase del progetto, cioè al ripascimento vero e proprio, questo sarà eseguito con un tipo di sabbia che, essendo diversa da quella autoctona, finirebbe secondo Lega Ambiente per stravolgere la fisionomia dei nostri lidi. Per questi motivi il circolo Sichelion di Ispica, insieme agli omologhi di Ragusa e Modica, leva alta la voce affinché gli enti coinvolti, in primis il Comune, organizzi un'occasione di confronto con la società civile, in cui magari fornire spiegazioni scientificamente rigorose su quanto sta accadendo. Le stesse associazioni poi invitano l'opinione pubblica a seguire con la massima attenzione la vicenda, visto che ad essere in gioco sono il futuro del turismo e la sopravvivenza stessa del mercato immobiliare nella zona. Un'area che, nell'immediato futuro, dovrà imparare a convivere con la perdita dell'apparato d'unalo originario, punto di forza e tratto caratteristico del territorio. Nei giorni scorsi il presidente di Lega Ambiente Ragusa aveva chiesto di non cedere a facili allarmismi per quanto riguarda altre zone della nostra costa, come San Pieri, dove non sarebbe in atto alcun fenomeno di erosione. Spesso i toni drammatici aveva messo in guardia il presidente Claudio Conti servono a giustificare interventi che non fanno altro che peggiorare la situazione. Grazie a tutti.